Da Vinci sempre a Bolzano per parlare di un'altra iniziativa dal titolo Gustare la primavera. Si tratta solo della prima di una serie di iniziative per ridare vita al nostro centro commerciale naturale. Queste le parole del fiduciario dell'Unione Commercio, Luciano Defant. Sentiamo. Via Leonardo da Vinci a Bolzano si veste di primavera, prima di tutto grazie ai colori vivaci dell'Arlec in la nuova pianta inventata dai floricoltori dell'Alto Adige che dal 2 al 7 maggio vivacizzerà la via e che verrà regalata in formato mignon a tutti i clienti che faranno acquisti nelle 15 attività partecipanti. Gustare la primavera in Via Leonardo da Vinci è solo una delle prime iniziative promosse dall'Unione Commercio in collaborazione con il comune di Bolzano per tornare a far pulsare il centro commerciale naturale di Bolzano, come ci spiega il fiduciario dell'Unione Commercio, Luciano Defant. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo fortemente voluto dopo le vicissitudini di questi ultimi mesi. Riteniamo come Unione Commercio di valorizzare quello che è il vero centro commerciale, quello naturale, quello storico che è quello delle città dove la gente vive, lavora e socializza. Riteniamo che verrà apprezzata questa iniziativa non solo dai commercianti ma bensì dalla popolazione che penso che voglia avere una città allegra, vivibile e non morta come forse una parte della politica la vorrebbe a seguito delle decisioni prese. Chiunque la prossima settimana farà acquisti nei 15 esercizi partecipanti all'iniziativa riceverà un coupon da imbucare nell'apposita urna. In Palio ci sono 105 biglietti per gustarsi una gita nei giardini di Castel Trautzmann d'Orfa Merano. Inoltre il 5 maggio sarà la volta di una serata lunga con serrande alzate e musica ben oltre le 7. Ma il piano dell'Unione Commercio per rilanciare le vie Bolzanine non finisce qui. Siamo in fase di verificare alcune vie che sono particolarmente adatte a queste iniziative, comunque non trascureremo nulla. In cantiere c'è già l'iniziativa dal nome La Galleria dei Talenti che mira ad unire la passione per lo shopping nelle gallerie Bolzanine con le prove dei grandi talenti del concorso Busoni, appuntamento a fine agosto. E intanto oggi è stato inaugurato il... Grazie. Grazie.